Musica E quindi è un momento importante, un momento di testimoniare la solidarietà, la passione per la vita, la fratellanza con la propria comunità. Quindi noi dobbiamo porre al centro della nostra società l'anziano e creare all'anziano stesso delle occasioni di incontro e di partecipazione alla vita quotidiana perché questo lo aiuterà anche a sconviggere quelle paure verso le truffe che può subire. L'anziano è una giornata particolare appunto come ricordavano prima sia l'assessore ai servizi sociali che il sindaco perché rappresenta la storia, la nostra storia, la nostra vita che cammina e quindi ci fa vedere il nostro cammino che facciamo dai più giovani ai meno giovani e poi quando si arrivano a loro. Ogni centro si raduna insieme a tutti quanti gli anziani per programmare dell'attività. Poi c'è anche l'Utete che è l'università della terza età e ricordiamo anche qui la figura dell'Utefe e quindi il suo presidente che era appunto Gabriele Neppi che recentemente ci ha lasciato e che è stato sempre uno dei capisaldi proprio dell'anziano attivo, propositivo eccetera. Per la scuola professionale è necessario che gli imprenditori della zona facciano delle scelte che garantiscano a questi ragazzi che imparano un mestiere domani un'occupazione. So che ci sono già degli esempi positivi e quindi questa cosa la dico perché è positiva, perché sta crescendo una sensibilità, perché tra regione e privati e imprenditori, accompagnati magari dalle considerazioni che possiamo fare noi perché più di tanto non possiamo fare, ci sia una sinergia tale che consente a questa scuola professionale di crescere. Quando iniziava l'opera e non aveva un becco di un guattrino e quindi mandava i ragazzi stessi, orfanelli, a fare un po' di provviste con i canestri, ritornavano pieni di ben di Dio e da quel momento tutta la città si è commossa per aiutare l'opera d'Orricci. Grazie a tutti.